ora io può spiegarvi lo detti è che come deve mettere condivide l'audio nel party quando faccio allora o di vapore dei wolf noto spiega diego allora allora dovete andare tu parti audio della chat no ma è la schermata party poi impostazione parti consenti la condivisione della voce consenti dentro consenti la condivisione della voce consenti dentro ah ma già state in live ma io fabulus lo aggiungo che dici ora succede mettono di pietra promette di vietari no ma non c'è un minuto che devono al bagno ad agno ma io attacco il citro campo a riprovamo come prima si 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 ma che c'è la live veramente tre spettatori in onda tre spettatori live insieme a noi chi so vediamo se se ci scrivono qualcosa quindi ok mi devo mettere c o c ci siamo? 4 spettatori online tutti pronti ad insultare fabbione nazionale fabbio sei live su youtube? non far timido cercherò di non dire cose conce questo è Mizzio che ha scritto partitona ma qua qua tocca riprende a vince qui c'erano pure gli spettatori da casa direttamente qui in curva abbiamo la curva epic eh c'è la curva epic adios piano piano troviamo la tifoseria ragazzi adios provo a giocare mentre ho i commenti accanto con lo schermo ridotto vediamo un po' come va vediamo un po' impostazioni trasmissione eccoci almeno si vede qualcosa andiamo andiamo ma perché io capitano? io ci ho fatto ci ho messo di verano ti puoi mettere Diego? come c'è Diego? no 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 non si maledetti ma questa è una mica mia mi ha setto amici il tuo mio la ragazzo tenevo dai eh se inizia lasciamo gli scarpini ancora richiesta a Morganella quando cacchio si rifa vede su FIVA la moda è fatta la twitch chiede dai tutto saccia è una partita importante rego no no rimetto rimetto schermontero no capisci ce capisco però pure nella live se vede sto riquadro il difensore spazza in qualche modo pallone che finisce in pallo laterale la traiettoria verso il centro no non intervento del difensore che spazza via palla riconsegnata agli avversari dove fai che chi hai preso? buona lettura del difensore sul brutto passaggio oh bello oh bello oh bello oh bello oh bello oh bello non ce ne è qua occhio al tiro dalla bandierina pallone spazzato via bene dalla difesa lo ferma ma non controlla dobbiamo dire che abbiamo acquistato Fabio direttamente dal Barcellona dal Barcellona? è gol ecco attenzione è lui lo fa lui abbiamo preso a parametro al Barcellona eccezionale proprio lui tipo un po' Maxi Lopez si si tipo un po' a botte io l'ho ma questo cerca la sovrapposizione Ahmad commentato fa ho scritto eccezionale eccezionale Ahmad incredibile comunque non solo abbiamo acquistato un giocatore di FIFA abbiamo acquistato uno dei migliori intrattenitori in circolo messa dentro tra persone che si perde senta il tiro oddio uscimo rega questo ha tirato la sveglia assurda conclusione respinta dai linei a potere battuto spottumati nella circostanza andiamo andiamo oh beh no Fabi Ahmad ha scritto Fabi Fabi raccontaci dell'azione Fabi forco Giuda chi ha sa valla attenzione la palla è lì efficace riconquista la palla che termina dunque il palo laterale si la ducce c'è la torsa la torsa ripartirà con una rimessa laterale oh è questo ma che bene questo è questo che meraviglia non era facile guardate la porta da lì è mancata un pizzico di precisione frizz frizz pensa che a qualcuno gli ha volato qualcosa è sempre stato l'agos gabbè l'amore ha sbagliato il disimpegno regalato la rimessa con le mani grande amad valbuena uuuh picco picco dai 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 scusate raga volevo fare una giocata alla fine ho fatto una cazzata senza problemi dal portiere volevo fare tattico uuuh oh dai un po' muoca il pallone in mezzo muoca il pallone in mezzo buono l'anticipo del difensore difesa sotto pressione ci sarà nuovamente calciolante ragazzi sbagliato o stanno a gioca solo loro? no ho segnato che sbaglia a questo punto posso anche non si fidati spazzami e ripugno no non ci si crede comunque come ti capi? quella è la tua? ha presa lui ha presa lui no è vero l'attaccante in cielo scusa da lì non è non è non è vuoi parlare? tira il respinto si è fermato si tocca la gamba sembrerebbero il fortino muscolare ma che fa lottato? fischiarando la loro polizione ma magari ha smesso di gioca ufff 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 uff 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 finisce come il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 anni vabbè ragazzi dai, 1-0 1-0, risultato giusto si recupera dai, si recupera ma stiamo a vincere, che si recupera? eh lo so ma pure te si recupera? io sono adesso che sto a pensare, risposta cadato si recupera, era ironico per loro è come per dire, iapo e fa iapo e fa tutto pronto, vincita la seconda frazione io lo puoi fare si recupera, si recupera, pure pizziose sta lo senti, si recupera Fabio vai Fabio ma nooo Fabio sei un criminale, Fabio Fabio sei un criminale sei un criminale Fabio perché fai certe cose io non ti capisco guarda guardarci tu, ho piazzato sicuro sei fermo ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta a metri per correre sulla corsia si accentra eh sono scappato, c'era giù non fai niente bello oh non prova incredibile tira c'è di è bella faa eh ma la pesa di sinistro sto spastico oh se è maggioranza vedete ma c'è di sciabolata tesa salimo intervento tempestivo del difensore che taccetta al passaggio mamma mia so un canaccio eccomi il codietro oddio eh nooo non sapevamo con lui come abbia qua la palla nooo non è giusto non è giusto non ti ricordi ti eh? chi è? nooo non è giusto è tutto un momento lì e poi no, il commentatore dalla Lazio ah beh nooo nooo che cazzo a wolf qualcuno ha detto che sei stato peggio da Enzagi a prendere la mira in quattro attenzione nel meca c'ha torto ahahahah 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 tira ragazzi dobbiamo raddoppiare perché io non sto tranquillo così sì non sto tranquillo io non capisco perché continuano a dargli palla harta a quello più basso della squadra però vabbè sì infatti cioè io non è una cosa che non concepisco perché poi mi sento pure in colpa capito ahahahah ehi bello mazzo bello mazzo bello però questo la Daniele è la pittina ma così no che inserioso questo il 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 l'anno andate a me dai u tutte le gambe come stava giocamale bellami ottima la lettura del difensore che ha capito tutto ha recuperato il pallone occhio a questo ramo nooo non è passato no se ne è nido padroni di casa che sono sotto di una rete a pochi minuti dal termine i fondi sembrano crederci ancora hanno a disposizione poco tempo ma tutto può ancora succedere un altro appoggio sbagliato sembra in grande giornata manca poco no non è fuori gioco no è fallo però ragazzi attenzione ho tirato pulisce la tre quarti evitando poi peggiori trabrividiamo Lewandowski Rossi in mezzo attenta qui la ripesa palla allontanata che cavolo ma perché se leva il mio palla vagante adesso dai 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 ma però sembra che si sono messi d'accordo a mad e mi zio hanno scritto tutte e due che culo insieme pensa quanto è palesa allora pensa quante può essere palesa cosa occhio al corner prenditi vai die mamma mia vai sovrapposizione no no rega no rega no rega no rega due minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni e spettacoli becca di sto mica no ma è fabb va bene vinta 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 0 gola in cielo per lo stacco di testa oh mi ha aumentato un pochetto il giocatore potrebbe arrivare l'80 ma è cazzo bravo ho segnato quel botte eh? se no quando te ne amavo questo è il gol che si è mangiato prima con la partita di prima forza 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 sempre su questa linea d'onda dai ragazzi 1 a 0 vittoria come si dice quella di sicata insomma dobbiamo essere di cinici amad ha scritto bravi con parecchio culo no no mi zio ha scritto bravi con parecchio culo vabbè vabbè fa parte anche da del gioco che la palla è rotonda non c'è stanno più in mezzo ai stagioni fabbio e non c'è due senza tre bravo così l'importante è la squadra l'importante è il gruppo esatto intervista baspartiva l'importante è il gruppo l'importante è la squadra no ma io penso che la partita l'abbiamo dominata dall'inizio però ecco qualche situazione c'è un po' sfuggita di mano ma alla fine abbiamo strappato la vittoria l'importante è il gruppo l'importante è il gruppo il mister ha fatto buone scelte e in angola non sarco l'izza fa ma c'è a forte questo si chiamava ah questi quanti sono scusa 25 due quattro guarda cosa accesi io sembrava l'arbero di natale sembra eccomi eh mi ero assentato un secondo buonanotte ahmad ha scritto zitto fa fabbie scusate ragazzi pensavo che faceva sta stronzata il bot questo hanno scelto di attaccare sindaco chi è che ti ha abbandonato il loro vuole formazione gasaria un approccio e sembra aver funzionato ed ecco dunque arrivato il primo nodo dell'incontro 1 a 0 ma vuole ci sono metri a disposizione non era carica il portiere quella un pochino un pochino uuuuuh uuuuh mamma mia ragazzi che sculata bestiella uuuuh duello tutto di forza può avanzare occhio al cross sul primo palo portiere come giù il pallone occhio al pressi no 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 fatalino 15 partite impegnato la piazza maglie è capito non l'avevo non l'avevo piazzata la parola riparata senza problemi guarda la moglie passaggio intercettato bello ammazza vabbè dai ci si crede cerca il traverso brutto cross c'è il recupero darmi te lo facendo ripreseguire c'è qualche dubbio da rivedere all'interessante dello spazio taglia nel mezzo e c'è la conclusione no vabbè no vabbè ciò io credo adagnite adagnite davvero questo è stato questo è stato proprio un attacco di quelli isterici da niente no al portiere fuori no ha segnato barzaretti ha segnato vabbè tu la barzaretti è più bella mico ha scritto che pippe c'è stata la deviazione providenziale e sarà dunque il corner occhio al pallone in mezzo e dai nooo clamoroso no vabbè no 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 tira adesso aspettato no 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 ah così fuori gioco fuori gioco dai tu negro cazzo vuoi dire che cazzone ha mi pare di poter dire che fosse oltre l'ultimo difesa se vuoi dire cazzone nel video è negro cazzone so che due cose correlate no ma il portiere lo sa che la può piacche le mani perchè sembra che è timido quando la va piacche porca puttana vaffanculo eh e e quando c'evo c'evo e eh scusami fu oh Oh mico se sta a mangiare due cose da nilo mannaggia due volte che non mi aspetto che mi arriva la palla assolutamente gli errori ci stanno nel caccio Anche se onestamente era più facile segnare Guarda Qua qua Nooooo Nooooo Passarega Stanno a piavro capo a schiaffi Non si mette E' una partita a senso unico davvero 180 secondi questa è l'entità del recupero Tradotto per altri 3 minuti al termine Oh Ammazzato Ragazza di femminuccia Mamma mia regà No era buono Devo fare 4 gol capito Devo fare 4 gol L'importante è il gruppo Dicono sempre così Ma si dicono sempre la stessa cosa L'importante è il gruppo Che il gruppo sia unito Vengolan si arcolizza No no L'avevo sentiti bene Sobriaco Ma speriamo che so Speriamo che so veri Dai ieri che ci fanno altri 3 gol No 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 Cioè pensa a Danio Pensa a Danina Perfetto Perfetto Che cazzo di senso c'è a fare una finta là Lo vuoi dire che c'è senso Guarda ha morito Sei stato un po' aggressivo comunque Capitano Subbasa Ecco E' proprio lui E' proprio lui Non capito Niente loro sono così forti Perché noi siamo pitti No 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 Perché mi è stata fatta una domanda Capito Dovevo rispondere In maniera abbastanza sincera A me è lag Questa Io ha sto power per pisello Però Scusate Però tanti i nostri Indevono saltano Certo Vabbè Mamma mia Le pizze Stavano Vai Calcio champagne Ho fermato Una apparata 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 Ma che Era meglio il botto Fuori Palla riconquistava gli avversari Rimessa battuta proprio male Se ripartirà con una rimessa laterale Scusate Non ci sono dubbi qui A munizione Ci sta tutta Ci sta tutta Unizione da posizione invitante Di santi ideale Per cercare la posta Conclusione potente Manco qualche Non l'avvio Scusate Non gli mancano più male E' l'evolizioni Riesce a segnare Male 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 Prova ad andare lungo Sulla corsa dell'attaccante Ripley Che ci mostra l'offside Segnalato dall'assistente Non era facile Vederlo a velocità normale Complimenti Anche Bravo l'assistente Non avrebbe comunque potuto fare molto da lì Buon recupero possono ricominciare buono ho capito proprio che devo abolire il tasto cerchio ben poco famoso sciopero del cerchio come hai passato da lì? no scusami tranquillo go si si interrompe bene l'azione intercettando il lancio bello guarda guarda che tira due fango infatti ho inventato un'azione unica comunque una volta che non ho toccato palla io mi ho segnato sono contento vabbè questo deve entrare in porta si è capito non può sbagliare da lì comunque c'è certe volte guarda ho qua il commentatore mio li ha tirata troppo straordinario ha fatto non può sbagliare da lì ah comunque sempre eh per portare la via sempre eh si non è non è non è non è male 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 tutto bene eh ragazzi ma ho dei ricordi su facebook non ci ne frega un cazzo però vabbè no male male ottimo il recupero passaggio non esattamente perfetto vabbè perfetto oggi le passaggi così via che non è mai fallo quello che ci fanno un po' la messa al portiere dentro porco di scena che che porco di dici colpo di testa perfetta per eleganza e quindi perdi un cibacco perdi un cibacco perdi un cibacco esatto perbaccolina o come diceva una persona macribio 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 micocinte ma ce ne è macribio macarbio macarbio vabbè dicono che avemmo dominato con ieri quanto c'è ancora da vivere di questo match andiamo a bordo campo sul cronometro mancano il 5 minuti al novantesimo grazie a Matteo Barzaio ci ricorda la venice vai o e andiamo a via della cosa all'anno voglio bene attenzione tutto tiro tre 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 non guardiamo allo netto di un bel brutto non l'ho mai visto che credi sono stati figati è stato bellissimo ho fatto zagnolo buono che dopo si monta la testa zagnolo si monta la testa è vero è vero zagnolo si monta la testa bene così vai così ma la spazzata via palla rispinta la difensore con fungione potente e basta una sballata e pallone che si è presso sul fondo ma c'è avanti vabbè raga la prossima partita è un gran meglio l'importante è il gruppo allora ragazzi è stata una partita un po' sfortunata però quello che conta è il gruppo è il gruppo comunque dedichiamo questa partita non ai nostri tifosi si perchè ovviamente ci vanno da affianco via oh culo 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 ma è un po' sfortunato non mi sembrava ma è un po' sfortunato non mi sembrava che mi non c'è un po' sfortunato che mi sembrava era pure io ho dovuto iniziare il power up a diaveri no vabbè va tanto quello che conta il gruppo si si carca e voglio dico qui in camera mia fa talmente freddo che pare c'è sta regina del ghiaccio no erano accesi i termosifoni sono accesi incredibile ma non servono a un cazzo c'è i termosifoni che soffinti regano previar cinese questi già mi piacciono sì sì perché abbastanza malleabili sembrano così di prima kit insieme a uno si molto credevole 11 si muove si ho visto una cosa adesso c'evo creduto porca puttana di me botto ma sai che buono che ho fatto è scivola strano possono ripartire dopo il recupero del pallone viene chiuso no ne avevo visto va bene pericolo scampato decisivo il difensore interrompe bene l'azione intercettando il lancio si riprenderà dunque con un palo laterale c'è pressione su di lui ottima la lettura del difensore che ha capito tutto ha recuperato il pallone non so se Wolf ha steso uno tipo si ma tipo dentro la del rigore loro dai non puoi non averla presa ma la che finisce oltre la linea dell'out c'è comunque hai diversa ma Danilo non sono fascinato ti ho passato di modo di dare taglio a legna insomma si si se vabbè la abbiamo no Tanto ragazzi c'è un amico mio che per sentire il caldo si è spiaccicato da culo sul termosifone Ci si è proprio calcificato sopra Perché è successo questa cosa? Non lo so io stavo a tirare una bomba Immortalci sua E mi ha lasciato la palla? Eh si così E' artruista Che culo raga Quello non bastava che la piazzava al centro Capisco perché è sempre la testa a me Chiamiamo palla io e Danilo a chi la pazza? Noi l'ho chiamata palla Ehm... Anche a Fabio Io non ho chiesto niente Non lo so io No no che no Danilo sta dì Non ho chiesto a palla Da Nilo Non è che cazzo ho? Perché ha chiestato lui? Mi devi mettere mezzo uro a me Oh io ho chiesto no rimessa con le mani decisiva la deviazione ha spazio per andare il pittere è morto ma perchè il mio sta per terra ha preso l'entrata da Steven Seagal oh, guarda che ha preso il tuo mamma mia sono troppo forti ma fai cose di meglio vado a cominciare a rosicare Dani vado a cambio ma pure adesso no, portiere e mani li hanno staccato l'ho messo davanti a Dani? no come sei stato scortese beh, un pochetto sicuramente devo dire che mi sei piaciuto no, vabbè io comunque, regà tanto è inutile che giochi bene se poi i bot fanno queste cose dai, è assurda qualcosa questo gli permette di non aspettare i tempi e lasciare che siano gli altri per fare la prima mossa non passi hanno raddoppiato adesso sono avanti 2 a 0 allone profondo, pericoloso nulla di fatto qui puro è possibile so quelli di cose che ti lasciano da stucco proprio un barbatrucco il barbatrucco non lo vanno eh, sei stucco un barbatrucco un barbatrucco bella vanno e rilasci e rilasci e rilasci e rilasci e rilasci a vincere a vincere cristiano ronaldo che sanno fa? e dopo la fine della prima frazione dunque c'è il merdo già lo dici ma quindi so pure capitano? mmmm perchè c'è la fascia da capitano? no no capitano ehm 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 sì ma prova a girarlo a 5 a 5 metti a 5 già sta a 5 e pensa che questo è il caldo che fanno quando stanno a 5 pensa se lo metti a 3 quello niente è praticamente segnala se uno muore a causa del freddo dei potermi o cos'era sì manco che i terzini offensivi la passano avanti sta palla buono l'anticipo alla difensore grazie no così alza si fermate però intercettando il lancio buon possesso prova la botta pallone sul palo spazzano senza problemi conclusione ben indirizzata eh i legni hanno impedito il potere di capitolare riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio qui il difensore ha avvenuto eh sì tiro respitto ma la palla è ancora in gioco grande qualità ha saltato il suo avversario troppo facile per lui no lui non sta intercettando c'è spazio per lui la difesa spazza via il pallone chi c'eva davanti prima io scusa ma vabbè tranquilli ho fatto il movimento poi che ha passato via lo sai no vabbè che ti era ma non so perché non ha passato a quell'altro nooo eh mi è saltato proprio così con no senza perfetto un briciolo di sfidenta Che cazzo ha fatto? Ancora così Che ho? Palla pagata, interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Rivera. Uè, cazzo di palla. Vabbè. No, pure questa. È un mazzo. Un po' come ha fatto. Deve arretrare qui. E c'è il tiro. C'è l'altro. Niente. E arrivano gli applausi. Giusto sottolineare questo gesto, eh. Frizzo. Gente. Ho finito i video. No, non c'è tu. No, non c'è tu. Taccal Fred. Occhio al cross sul primo palo. Dare spinta di pugno. No, non c'è il pressing. Occhio al pallone filtrante. Manovra gestita male. Si riparte con una rivessa dal porto. Che schifo. Si fa spazio. O forse no. Andiamo da Matteo Barzachi. Quanto manca Matteo? Cinque minuti Pier. All'interessante dello spazio. No. Ne lo so. Ho provato a lasciare perdere. Ma ho marzato dal bangerino. Ma che brivido è in difesa qui. E qui hanno rischiato, eh. Ottiva la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Occhio cerca l'area di rigore. Ma quella di merda che ha toccato. Ah, una buona. Distinto il difensore. Pazza via. Allora intercettato senza problemi. Prince. Occhio al tiro. O niente, tutto il tappiato. Cross verso il centro dell'area. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Tac al frente. Può metterla in mezzo. Eoh. Oh no. Amazzo, va bello. Interrompe bene l'azione. Intercettando il lancio. Tempo scaduto. Male. Siamo solo all'inizio stagione. Tutto può succedere a questa sconfitta. Ma non c'è un attimo. Vedi che... Cambiamo i ruoli. Sì. Può ci fai. Averte che schifo. E comunque stiamo a perdere un po' a cacchio le cani, nel senso che non è che... Ma il punto è che ci segnano a Gogo fino a quando non cominciamo a gioca. Non cominciamo a gioca. Però quando cominciamo a gioca non segniamo nemmeno. Cioè, non li prendo i nemici, ma non nemmeno segniamo. Non nemmeno segniamo. Non nemmeno segniamo. Allora. Sì, sì, sì. ma al lupo? ma al lupo? va arrivo ma tanto mi finisco la sigaretta davvero a sto punto eccomo sta andando in giro con sto cosa e sta ok dai tu non hai il pane e cala ecco ecco eh pensavo che non partivi si 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 ecco 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 Aste? Non l'ha sentito nessuno Sì, qui si sa arriveranno una stagione discreta per loro di questo passo Vero, Dio? Che? Giocati, giocati Eh, hai capito? Giocati Aste, giocati, giocati No, non l'ho sentito io C'è un attimo da fare, c'è In una situazione in cui ho tutte le mani impegnate Ma regà, l'ho rossata Mi ha fatto il movimento all'entrata Anzi, forse la porta a banale, segno pure Fegli senza giocare Eh, gioca Stefano Sì Sempre personalizzato quello là Preferisce ripartire dal portiere Perzoli, perzoli Perzoli, perzoli Stile best Ma quanti sono? Che gigante, diciamo, in difesa È salito fino all'attacco Occhiar 4 La mente in mezzo Allora, quanto è grossi, no? Grazie Va bene Vattene, va dai Vattene, vai dai Ah, la passo No, 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 no Ah, no, 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 no E' il tappo un pò, da un poco più tirato Mazza quanto culo ne su bella merda subito quindi il intervento tempestivo del difensore che intaccetta al passaggio prova con filtrate profondo mamma mia cosa ha fatto qui no danilo, danilo sai quando mi mi manda affanculo vabbè si è arrivato ma quante stronzate di certi euronisti c'è il fischio dell'arco, si riparte con un caccio di punizioni che è successo? niente, mannazzopato chiavato puntuale qui il difensore del recupero si aprono spazi invitanti grazie a tutti mazza cazzo, regalo, non ho fatto ok, c'è il difensore che ha capito tutto e ha respirato il pallone aspira no? appesa attento qui il difensore che allontana oh, preso no? quadrato recuperano il pallone si arriva la segnalazione sarà caccia di punizione non penso che andrà il tiro da lì meglio metterlo addentro per cercare una deviazione guardate all'ultimo ma forse non lo metto nel quadratino no, però ho visto l'ultimo è il personaggio mio annometri a disposizione provano a fruttare bene il campo potrebbe crossare ma perchè sembrava che dal momento inculavo questo si, è vero un tiro dalla bandierina per la formazione avversaria non avrei mai fatto ma guarda questi che hanno fatto hanno scambiato davanti alla porta così ah beh è vero non ce l'avemmo quello destro bello che c'è chi rinca ah senza esitazioni ha mostrato il cartellino giallo si, molto vicino al rosso punizione da posizione invitante intervento sicuro una buona punizione che c'è chi si... 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 ah ah un po' un po' la corsa sulla faccia. Occhio attraversone. Grande riflesso del quartiere. Che dicevi no? Palla nuovamente in possesso. Può andare al cross. Bello da me. Ragazzi c'è un gesto tecnico notevole. E' in eccepito. E lo so perchè il mio ancora non è molto forte di destra. E' bella dietro. Però ho passato a loro. Autodadalto. Eh infatti, è strano che è. Ci sono metri a disposizione. La legge bene, traccetta il pallone. Non era difficile. Deve essere laterale in zero l'appaccio. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. La mette in mezzo. Non un gran che è il cross. La difesa a vita facile. Ok... Quattaccio ma tegriff. Una zero? Quattaccio ma tegriff? Una zero? Una zero? Una zero? Una zero? Una a zero? Una. Una.. Non si può fare un po' per un tempo e l'altro Ti ho aspettato 20 secondi per un tempo e l'altro Come? Allora? 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 Ecco il calcio di vincere il secondo tempo Potrebbe grossare il tocco dentro Oh, ma non ho spinto, bro Oh, mazza Nettissimo, ragazzi E Danilo quando bisogna dimostrare? Ricordate, ma? Per quello che era, non per quello che fa E andiamo Grande Solo su rigore Solo su rigore Ragazzi Per un attimo Per quanto avevo caricato Ho detto Volevo stare zitto Perché se no Se capiva Secondo me Ho una traversa sicuro Ero quasi sicuro di avere una traversa qua Per quanto avevo caricato Allora? Allora? Eh, capito Ho quasi Quasi al massimo Ho caricato la potenza Grande qualità E c'è il tiro Vabbè A 96 contratti di fila Tutti i lati Non si sa Ragazzi Non abbattersi A rispondere Immediatamente Al gol Subito Adad 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 Adadaci Adad 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 E Grande Scusate Recupero recupero oh grande fabio bello in mezzo tonino morta c'è un piso l'erone con 7 bravo ha fatto buono buono scusa dietro pericolo perchè quando da tasto che possiamo ha fatto il contrasto che erano giocato è riuscita a interrompere la trama con un buon intervento pericolo riavolo fa passata su te carico pochissimo noia di lungo un petto ma do cazzo ha tirato sto fio della parata che cazzo è successo che la deviata al difensore ma vaffanculo ma da qui è una merda col destro rega le ultime parole famose eccolo è il tuo scusa no lasciavata lasciavata mamma mia che c'è stata questa è proprio quella di infradito è si ruta io mi ricordo sto facendo la pista da lì ok la parte opposta andrò sto io comunque non so se avete notato che difensori ho contro io ma questo è da palla no ma non glielo dico mamma mia che flebbo che gli vedono che c'è il mio addosso intervento tempestivo del difensore che faccia dal passato ma se è perso ma se è perso ha dato ha dato ha dato ha dato e mo se ne va nooo deviata facciola ultimo tocco del difensore si ripartirà col corner ok oh mi sta andando solo il giuratore occhio al corner ci mette i pugni e allontana spazio per il traversone pericolo dalle scioto mamma mia che ti è causato ma che mai hai tirato addosso no metà che ho tirato poco male io ha preso la nonna metà no palla larga ottima quina giocata di prima proprio così e dai scusa segna di è ma chi è capace potrete anche calciare in porta da lì ha fantastico il portiere ci ha messo una pezza con l'intervento d'applausi ha tolto la palla dalla porta con un balzo felino ma come ha fatto chi cazzo ci sanno all'altra cosa su quel pallone no sempre con loro noi mai così guarda c'è incredibile eccezionale dai portiere dai portiere che stiamo da soli qua mannaggia la tua esce e recupera il pallone no uh uh mette in mezzo hanno messo il pallone in aria ma senza precisione andiamo da Matteo Barzai a Porto Cap per sapere quanto resta ancora da giocare ma tu cazzo ha dato a sto un po' no tra quanto la crossa Fabio mamma mia può metterla in aria cercare la deviazione vincente e spezzare l'equilibrio in questo finale di occhio al pallone no no c'ho provato regà ci ho provato regà pallone terminato abbondantemente lontano dai pari tentativo coraggioso ti aveva fucinato comunque no no vabbè dai ma che è sta cosa brutta regà questa è stata pessima eh questa era ninfama cioè l'ho presa sul personale ve lo dico questa è stata proprio è stata proprio pessima regà qua c'ho musicato proprio pensai io allora allora vabbè dai questo è il momento di interrompere la live così quindi allora 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 allora